Allora, ha terminato questo debutto nel torneo dell'Unicef. Capitano, com'è andata? Tutto bene? Ve l'aspettavate un successo così? Voi ve l'aspettavate un avversario? Si chiamano bimbi, ma insomma. Non si conoscevano, ma ci sono conosciuti. No, i bimbi del mister? Questi sono i diavoletti del mister? Siete stati bravissimi? Grazie. Com'è questa squadra avversaria? Bene, non si prendono lo sticco blocco perché ne fai voi. Voi come debutto? Perfetto. Tutto a modo per questa volta. I flyer mi gratis. Tutto così. Con un gesto. Allora, casomai gli altri resti non tutti puoi avviare. Grande, ha fatto un bel gol. Comunque la squadra deve ancora migliorare tantissimo. Quando c'è questi fatti, vedi? Deve migliorare ancora un bel po'. Davide, eh? Con di voi no. Com'è la partita tua? Fermi un attimo, speri un attimo. Scusate, Luca. Scusate, Luca. Scusate, Luca. Scusate. Andate in pace. Bene. Bravi ragazzi, dai. Complimenti. Buon bolla del pace, coltino la pistola. Mi stai anche ripieno. Coltino la pistola. E c'è il bimbo. Grazie.